Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 225 nuovamente dal parco. Approfitto della mia pausa pranzo tra uno studio e l'altro per fare qualche vlog e coprire qualche argomento a me caro che non avevo trattato l'ultima volta. Il primo argomento di cui vorrei trattare sono le partecipazioni o collaborazioni su YouTube. Un argomento che ha molti piccoli YouTuber e molto caro e che è uscito fuori un po' di tempo fa che sono abbastanza cattivo, bastardo, stronzo sull'argomento perché non decido di non aiutare i YouTuber piccoli di me. Questa è una stronzata, lasciatemi il termine perché non è assolutamente vero ciò. Ma con questo video tenterò proprio di chiarire questa cosa. Innanzitutto partiamo col dire che le collaborazioni e partecipazioni per quanto riguarda il mio canale sono partecipazioni che penso riguardino serie di medio e lungo termine come campagne su tutta l'uola, Europa Universalis eccetera eccetera. Cosa non tollero della gente che mi chiede tali cose o comunque di essere, di aiutarlo a crescere o comunque di fare video con lui? Non tollero quando me lo si chiede attraverso lo spam. Quello proprio non lo tollero e non lo posso tollerare. Quando una persona mi viene sotto tutti i miei video, è successo a inizio maggio, mi viene sotto i miei video e ogni video che esce in quella determinata giornata pubblica sotto quel video, passate dal mio canale, video di gameplay, magari che non c'entra nulla col mio canale, quindi non sono legati alla strategia o alla storia o ai survival che sono giochi che tratto io. O comunque non sono giochi visti sul mio canale, ad esempio Minecraft, cosa c'entra Minecraft o FIFA, cosa c'entra FIFA col mio canale? Vabbè, lasciamo stare questo argomento, cioè fatelo almeno con cognizione di causa lo spam e lo trovo scorretto, è come se voi a casa vostra vi ritrovate ogni giorno la buca delle lettere piena di messaggi, di gente che vi manda di pubblicità, venite al Carrefour, già ci sono quelli. Immaginate una persona che viene tutti i giorni e vi mette lì la letterina e voi cosa fate di quelle cose? Lo strappate, lo buttate nel riciclo della carta perché finisce così. Ed è la stessa cosa che succede su YouTube, YouTube ha un sistema eccellente su questo punto di vista e appena, non so, intuisce che tipo vede passare canale o un link oppure c'è qualcosa che sembra troppo lungo il messaggio, lo mette tra lo spam e quindi sono io che devo autorizzare alla visione, agli altri iscritti, le altre persone che vedono i commenti di quel commento. Quindi è inutile che lo scrivete, ma la gente sembra non saperlo, infatti io non ho mai fatto spam perché a parte sapevo di questa cosa e poi lo trovo più una cosa scorretta, non è da me. Quindi per ovviare a questa situazione, che se no sembra che non voglio partecipare, perché io so benissimo che essendo YouTube un social network, social video, insomma si pubblicano video tra una comunità, è giustissimo collaborare con altre persone all'interno di questo social, è giustissimo. Purtroppo, per quanto mi riguarda, le mie tempistiche sono molto strette. Vi spiego meglio. Se ad esempio mi metto d'accordo con Tizio, che ci mettiamo lì e in questo mese facciamo una campagna su Europa Universalis, io magari un giorno ti dico va bene, ci sono, l'altro giorno non ci posso essere tutta la settimana, quando ci siamo messi d'accordo tipo alle tre e registriamo, io non ci sono tutta quella settimana, capisci che un progetto del genere che deve avere fine in un mese va avanti come le mie serie, che vanno avanti per mesi, mesi e mesi e non è una cosa fattibile perché magari tu c'hai i tuoi impegni, io c'hai i miei, eccetera, eccetera. Ho trovato una soluzione però, ho visto che funziona, ho già visto che funziona. La soluzione è quella di fare un video in cui voi innanzitutto mi scrivete tramite messaggio privato o mail di YouTube o mi scrivete su Steam o mi scrivete attraverso i canali privati, non nei commenti, perché se dobbiamo prenderci degli impegni ce li prendiamo tra noi, tra interessati, non che tutto il mondo lo deve sapere. Comunque questa è una cosa abbastanza logica. Comunque mi dite, io sono tizio che è sempre ora, faccio gameplay di questo tipo, faccio video di questo tipo, innanzitutto guardo se i video che fate sono inerenti con quello che faccio io perché sennò cosa mi interessa, tanto un bel tagliare erba che passa dietro ci sta sempre bene. Se ritero che il vostro canale sia legato al mio, comunque abbia delle correlazioni con il mio, vi contatterò, ci contatteremo, ci metteremo d'accordo e io farò un video in cui dirò questo ragazzo è un ragazzo competente, una persona che merita più iscritti, merita tali e tali cose, fa gameplay molto belli, mi piacciono, soprattutto mi piacciono a me, se io sono il primo che non mi iscriverei al tuo canale non vedo perché devo sponsorizzarti, ho detto proprio sinceramente papale papale, poi fossi grande, ragazzi ho 3.000 iscritti di cui più della metà non mi seguono perché mi seguivano i tempi che facevo video un po' più in fretta, un po' più di frequente, poi ho avuto un mese praticamente di un anno, facciamo 6 mesi quasi, più di 6 mesi in cui non caricaro video, quindi metà della mia base di iscritti non mi segue più e quelli che mi seguono sono sempre i soliti, quindi ragazzi non vi aspettate grandi numeri da me che guadagno. Quindi, questo ho trovato un metodo che funziona a parer mio, funziona perfettamente, ad esempio sarà la centesima volta che lo dico, ma con Avionauta ha funzionato alla perfezione, ci sentiamo ogni tanto ancora io e lui, eccetera eccetera, e quindi questa è la soluzione che ho trovato ai miei problemi per venire incontro anche a voi youtuber più piccolini. Un'altra soluzione che ho visto, che sinceramente la copio e la prendo come spunto, sempre da Avionauta e altri youtuber come Ace the Brave e Larus, sono fare dei gameplay campagne a spezzettoni, cioè ad esempio io mi occupo del primo pezzo, non so, ad esempio con la Crusader Kings Succession campaign che hanno fatto, è perfetto perché alla morte di un regnante passa ad esempio la campagna passa a un altro giocatore, a un altro youtuber, eccetera, così, a pezzettoni proprio, in cui io quando ho finito la mia parte in teoria non sono più interessato all'altra, cioè in teoria perché un minimo devo seguirla, però non ho più impegni da fare di fretta le cose, eccetera eccetera. Una volta che ho concluso la mia parte, diciamo posso tornare tranquillo, avendo fatto i miei, quello che devo fare, quindi questa soluzione di gameplay, diciamo spezzettati, un po' slegati tra di loro, può venire in conto alle mie esigenze, quindi se qualcuno di voi ha delle proposte da farmi, ben volentieri. Sinceramente pensavo di fare delle proposte ad altri youtuber, adesso le farò anch'io, più che altro siamo d'estate, quindi io adesso non ho molto tempo, ma spero di aver risolto la questione spam, collaborazioni, eccetera eccetera, perché davvero stava diventando un tema spinoso, in cui mi si dava magari anche dell'egoista e non è assolutamente vero, quindi spero di aver risolto, vi chiedo solo di non spammare, non spammate sotto i miei video perché mi dà davvero fastidio, mi dà davvero fastidio, è una cosa che non tollero assolutamente, spero di aver chiarito questa cosa, spero che molti di voi colgano l'occasione, in questa occasione di iscrivermi, comunque contattarmi in questa maniera, da The Wall per questo primo vlog è tutto, un saluto alla prossima, ciao ciao! Ciao!